E lo chiedevo all'onorevole così. Ma per quale motivo? Non ho capito. Così, lui mi guarda, mi vede, mi può aiutare. Ma perché? Perché siccome io ho fatto una domanda, ci stanno adesso, ci sono le Olimpiadi. Sì, ci sono le Olimpiadi. Le Olimpiadi a Los Angeles. Sì. E allora io ho scritto una lettera a Los Angeles per essere accettato per fare le Olimpiadi. In qualità di che cosa? Io sono un centometrista. Ah sì? Sì. Sei centometrista? No sei centometrista. Centometrista. Corri? Corro, sì. Che tempo fai? Eh? Che tempo fai? Adesso saranno le Olimpiadi. No, dico che tempo fai? 9 e 9? 18. No, quanto fai? In quanto tempo le fai? Ah, 4 e 4. In 4 e 4? No, in 4 e 48 io corro se mi chiamano. Ah, ho capito. Sono pronto. Allora facciamo una cosa. Ci colleghiamo direttamente adesso con le Olimpiadi. Eh? Eh, se sei pronto oppure... No, 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 mi devo preparare. Allora mi preparo anch'io, poi ci colleghiamo direttamente. Un secondo. Mi preparo. Sì, sì. Pronto per le Olimpiadi. Ecco qua. Pronto per le Olimpiadi? Pronto per le Olimpiadi. Allora qui, Boario, a voi, Los Angeles. Allora qui, Boario, a voi, Los Angeles. Allora qui, Boario. Allora qui, Boario! Alora qui, Boario! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.